Forza viola ragazzi ma quanto è bello questo post partita ovviamente inaspettato perché non fa parte della mia programmazione ma non potevo fare un post partita di una partita sofferta Napoli 2 Fiorentina 5 allora c'è tanto da raccontare in questa partita ma io devo fare un applauso a questi ragazzi perché si è giocato tutto un secondo tempo in 10 ragazzi siamo andati anche in vantaggio e poi mi domanda e dico e questa è la domanda che voglio che voi rispondiate nei commenti ma siamo ancora qui a pensare che il portiere tolare debba essere Drongoschi o Terracciano perché io la risposta la so già ovviamente ragazzi prima di andare a parlare ovviamente di Napoli Fiorentina finita pochi istanti fa dopo i tempi supplementari un'ottima Fiorentina vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube Mister Viola attivate la campanella tanti like commentatelo condividetelo ovviamente ragazzi Instagram e Facebook sono gli altri miei due social e come sempre link in descrizione dei miei shop o là nel link in descrizione degli amici di okacalcio.com Ma allora passaggio del turno era difficile era difficile perché comunque si veniva da un 4 a 0 quanto il Torino poteva esserci anche mentalmente una difficoltà in più e invece mi è piaciuta la Viola anzi vi dirò di più inizialmente ho detto anche la formazione ma come Astrovilli ma come buonaventura in panchina invece alla fine fine c'ha avuto ragione italiano ragazzi perché si è giocato alla pari di un Napoli che comunque sulla carta rimane forte anche se è rimaneggiato che non era il Napoli tolare però si è dato una bella lezione di calcio questa è la Fiorentina che voglio vedere questa è la Fiorentina che deve scendere sempre in campo questa è la Fiorentina che ci può dare soddisfazioni non quella vista a Torino ma è quella vista a Napoli ragazzi allora passiamo il turno sarà l'Atalanta la prossima avversaria ma questa sera è solo da godere ragazzi solo da godere ovviamente domani esce il pagellone oggi voglio solo in questo momento voglio solo fare un post partita di felicità perché veramente faccio un applauso anche a Vincenzo Aliano allora devo dire che la partita poteva finire anche dentro i 90 minuti regolari o comunque 96 minuti regolamentari perché a me me la deve spiegare l'abitro come si fa a fermare con E da solo va in porta da solo fai 3 a 1 finisce la partita come si fa a non dare il vantaggio a una situazione di genere come si fa io me lo domando e dico se voi sapete la risposta ditemela perché è una cosa incredibile poi un Napoli nervosissimo perché comunque noi siamo stati bravi a metterlo in difficoltà sempre e comunque ok siamo stati veramente molto molto bravi e io non posso che non fare i complimenti a questa squadra che stasera mi ha fatto ci ha fatto soffrire perché quando ragazzi io vi dico una cosa quando ho visto il 2 a 2 ho detto vai ora si perde tanto lo conosco siamo così noi siamo sfigati ho detto vai ora si perde invece no invece siamo andati coraggiosi nel secondo tempo nel primo tempo supplementare ci abbiamo creduto fino alla fine poi ovviamente complice le doppie espulsioni del Napoli ci hanno un po' facilitato la cosa che comunque il Napoli poi non ha fatto più niente a parte qualche sbarione là davanti ma dove noi comunque eravamo sempre in vantaggio di un uomo però si è ribaltata la cosa perché noi siamo partiti bene poi il svantaggio di un uomo e poi la cosa si è ricapovolta pareggio con gli uomini e poi addirittura siamo andati in superiorità numerica quindi meglio di così questo giovedì non poteva iniziare mi dispiace ancora di più perché se questa Ferentina fosse scesa contro il Torino a Torino avremmo vinto anche a Torino è proprio cambiata la mentalità mi è piaciuta tutta la squadra non voglio dire e poi devo dire un'altra cosa ha segnato anche Piontek cioè non ci dimentichiamo che ha segnato Piontek ovviamente un gol facile un gol con la superiorità numerica quello che volete ma ha segnato Piontek il pistolero aveva detto spero di fare subito bang bang con i tifosi viola l'ha fatto già stasera il suo esordio ovviamente ha rilevato Blauvic altra domanda che vi voglio fare che ve l'ho fatta anche su Instagram è il passaggio di consegne secondo voi rispondetemelo ovviamente bravo Dusan ad aprire le marcature io devo dire stasera bravi tutti l'unico che non gli posso dare bravo ragazzi bravo anche Nastasic mi è piaciuto anche Nastasic stasera l'unico che non è stato bravo e a che mi veramente mi deve spiegare a volte perché spenge il cervello è Drongoski perché allora sui primo gol del Napoli io mi domando e dicono una situazione di genere hai appena segnato spazza via quella palla no nella difficoltà cerchi sempre di giocarla va bene che l'italiano vuole giocare il pallone ma ci sono dei momenti e momenti e poi ragazzi con piedi non ci siamo Cicciano a Bistot a Terracciano e Drongoski tra un pochino l'è meglio anche Rosati con piedi e poi sul 2 a 2 ragazzi ma io ma ma veramente ma va a Funghi e Fagiani quest'altro cioè non è la prima volta e vi ricordate il gol della Sampdoria ha preso un gol da centro campo perché nulla praticamente l'era al limite dell'area di rigore ma la posizione ma gliela insegniamo a sto portiere la posizione ma dove vai cioè su un'azione avversaria devi rinculare perché comunque c'è il tuo difensore che è in marcatura e tu mi vai in avanti ma dove vai ma dove vai tolto Drongoski tutti gli altri ottimi ottimi dai primo all'ultimo non me ne è dispiaciuto uno bravo Lollo ragazzi stasera lo segnavo tutti hanno segnato tutti e questo è questa è la coralità che mi piace di questa Fiorentina e questo è quello che voglio vedere da parte di questa Fiorentina è la coralità e onestamente io non rispondo alle provocazioni e quant'altro però dei commenti che sono stati fatti anche nel video precedente italiano qui è un allenatore di serie C ma io non voglio dire nulla è facile dirlo dopo ma io non rispondo perché non do adito a certe cose che secondo me sono dette giusto perché uno non sa cosa scrivere con tutto il dovuto rispetto ma se pensate che l'italiano sia un allenatore della serie C parliamone ora perché Iuri ci ha fatto bene con il Torino contro di noi per l'amore di noi ma l'andata fu la Fiorentina a mettere sotto il Torino quindi chiudiamola qui ragazzi questo è un grande tecnico questa è una grande squadra adesso mi aspetto altre manovre di mercato della Fiorentina lo dico perché mi piace Napoli 2 Fiorentina 5 passaggio del turno prossimo avversario sarà l'Atalanta la Fiorentina va avanti in Coppa Italia eliminando una pretendente alla vittoria della Coppa Italia non dico altro ragazzi ci vediamo domani per il giorno dopo più il pagellone di Mister Viola che fioccheranno bang 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 fioccheranno i voti altissimi tranne uno e abbiamo già capito chi è ciao e forza Viola